Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube Discover Messina Sisili. Iscrivetevi al canale e rimarrete sempre in contatto con noi e aggiornati sulle rubriche che ogni giorno vi proporremo. Oggi, 25 marzo, il calendario liturgico festeggia l'annunciazione dell'Angelo a Maria. Quindi desidero trattare con voi oggi una tavola a noi molto cara che è l'annunciata di Antonello da Messina e vorrei farlo attraverso le parole di Vittorio Sgarbi. Nel corso del video vedrete anche delle immagini e delinerò anche la figura di Antonello e il suo rapporto con la città. Vittorio Sgarbi, una ragazza di nome Maria. Ho qualche dubbio che la donna più bella della pittura italiana, la più intensa, la più viva, sia altrettanto nota. E non intendo parlare della Gioconda, opera pop, madre naturale di Iara Ferranni, ma di una ragazza siciliana, determinata, erritrosa, misteriosa. Una ragazza di Messina, in viaggio a Venezia, dove il pittore la vede così intensa da farla vivere oggi davanti a noi. È l'annunciata di Antonello da Messina. Prima di tutto una donna, non la Madonna. Corpo vivo e anima. Non astrettamente, la Vergine, bensì una donna. Nessun artista, neppure Leonardo, e tanto più con un soggetto sacro, era stato in grado di rappresentare la femminilità, tra sensualità e turbamento, come Antonello in questa ragazza di forte carattere e infinita dolcezza. Antonello ricerca la più alta sintesi formale in ogni sua opera, ma in questa va oltre. Intende esprimere, innanzitutto, che il momento decisivo dell'annunciazione sia una questione individuale, interiore. È, in prima istanza, si sbarazza dell'angelo, inevitabile in tutte le rappresentazioni dell'evento. L'angelo irrompe, ma più spesso è ricevuto come un ospite atteso da una Madonna preparata, in uno spazio aulico e solenne, che è una, sempre ideale, casa di Dio. La ragazza di Antonello sta a casa sua e ha il pudore di non farci vedere com'è il suo letto, com'è la stanza, perché l'angelo entra in uno spazio interiore, non fisico. Non c'è bisogno di dipingerlo, è dentro di sé. E anzi, Antonello lo immagina davanti a lei, dove siamo noi, e da dove lui la dipinge. L'angelo si avvicina dall'aldiquà del quadro, e la Madonna, la ragazza chiamata Maria, lo fa intendere. Muove infatti la mano destra in avanti e la fa vibrare nell'aria per farci sentire lo spazio che li separa, quasi dicendo, un attimo, ti ascolto. L'immagine della Madonna ci appare senza tempo, nella sua ferma e incorruttibile bellezza. Ma lei, nella sua fisicità, sta in uno spazio reale, quasi in un angolo. Per questo Antonello dispone in diagonale, con lo spigolo verso di noi, il leggio che ci fa sentire la profondità dello spazio e le cui forme indicano un tempo preciso. 1470-1475 E' l'ultimo elemento che ancori l'opera al suo tempo, una realtà indiziaria. Ma non cambia la sostanza di quella sospensione, di quel momento di concentrazione, dopo la sorpresa che la donna esprime con lo sguardo intenso, rivolto più verso il suo cuore, segreto, che a chi le sta davanti, a noi e all'angelo. Maria si guarda dentro e, con la sinistra, compie un gesto ancora più eloquente. Si chiude la veste, più che per pudore, per proteggere ciò che sente dentro, il bene prezioso che Dio le ha donato, Dominus Tecum. E certo nessuno è più piena di grazia di lei, umanissima grazia, perdono divino. Tutto questo articolato processo, che la pittura restituisce con straordinaria semplicità, è, se si esclude lo scrittoio, ambientato in un luogo indistinto e indefinibile. Perché Antonello dispone la sua annunciata contro il fondo nero, a intendere la concentrazione del pensiero, il buio nel quale si agita la coscienza. La Madonna riflette, è chiamata a scegliere e fra poco deciderà. Il suo porto perfetto è incorniciato da un velo che non imprigiona ma libera, un velo del cuore, entro cui si custodisce il più grande segreto, la presenza di Dio. Questa donna sola, concentrata nel pensiero più alto, è la madre di Dio. Lo sa, sta ascoltando l'angelo. Lei lo vede, noi lo intuiamo, guardandola. In questi luoghi, già contrada dai sicofanti, era la casa dove nel febbraio del 1479 moriva Antonello da Messina, che è il nuovo metodo di colorire ad olio, diffuse per l'Italia in dipinti immortali. Così recita una targa commemorativa di Antonello da Messina del 1907, murata nel prospetto laterale del monastero di Montevergine. Il legame di Antonello da Messina con questo monastero ci richiama anche al legame con la Santa Eustogia contemporanea di Antonello, che nasce il 25 marzo nel villaggio dell'Annunziata. Era il 1434 e in quell'anno a Messina c'era la peste, ma l'unico villaggio scampato all'epidemia era proprio quello dell'Annunziata. Si racconta che apparvero degli angeli a sua madre, che le dissero di partorire in una stalla, come avvenne nel caso di Gesù. Eustogia crebbe con la vocazione e decise di non sposarsi. Entrò nel monastero di Basicò e poi fondò a Messina il monastero delle Clarisse. Il monastero di Montevergine, che sorge lungo la via 24 Maggio, nei pressi di quello che era il quartiere dei Sicofanti, quindi dove era nato Antonello da Messina. Ci troviamo nei pressi del Torrente Boccetta, dove sorge la chiesa di San Francesco d'Assisi all'Immacolata, riprodotta da Antonello nella celebre Pietà con tre angeli esposta al Museo Correr di Venezia. Ma chi si cela dietro il mantello della Madonna? E se fosse proprio la nostra santa Eustogia Smeralda Calafado? E' infatti possibile che Antonello e Eustogia si conoscessero dal momento che entrambi vivevano nello stesso quartiere, appunto la contrade dei Sicofanti. Il volto allungato, l'arcata sopraccigliare, il naso e le labbra appena accennate, le dita delle mani molto sottili. Sono tutti caratteri che corrispondono alla descrizione di Eustogia Smeralda Calafado. E in più, sotto il manto azzurro che la Madonna chiude con la mano sinistra, si intravede un abito marrone, riconducibile all'abito indossato dalle clarisse. E se fosse proprio lei la modella di Antonello per l'annunciata? Ringrazio e saluto l'architetto Nino Principato e vi do appuntamento a domani, quindi seguiteci ancora sul nostro canale per altre interessanti rubriche. Ciao a tutti!